Ciao a tutti, benvenuti a questo corso richiestissimo di Laravel. Oggi, episodio 1, introduzione, parliamo di che cos'è Laravel, perché studiarlo, come sarà impostato il corso e varie ed eventuali aggiuntive. Allora, che cos'è Laravel, come funziona, perché e quant'altro. Allora, Laravel è un framework PHP, come potete vedere. Se siete qua per studiare Laravel, presumo sappiate che è PHP, PHP, che è nato nel 2011 e ci serve per andare a creare applicazioni web. Per applicazioni web intendiamo qualcosa di un po' più grosso, al di là del solo sito web. Possiamo fare il sito web, ma in realtà possiamo andare a fare appunto siti web dinamici, come possono essere e-commerce, possiamo andare a fare gestionali, blog, CMS e quant'altro. Quindi qualsiasi cosa che è web. Inoltre, abbiamo la possibilità di utilizzare Laravel solo come API JSON, se vogliamo, oppure possiamo anche andare a creare nello stesso progetto un frontend in React, Svelte e quant'altro, e avere il backend in Laravel. Oppure, ripeto, potremmo utilizzare solo il backend in Laravel in un progetto e poi mandare il JSON e collegare il frontend. Insomma, le possibilità sono molteplici. E ci teniamo a dirvelo perché è importante che capiate che Laravel può essere praticamente usato per qualsiasi cosa lato web. Anche se sarà poi l'esperienza a dirvi come usare quando, poi come aggiungere React, se volete farlo, eccetera, eccetera. Partiremo semplici perché quello che ci interessa è capire come funziona. Una cosa bella di Laravel, se andiamo a vedere qua sotto, è ciò che ci va a proporre. Sostanzialmente non c'è tutto, non c'è tutto quello che offrono, però ci fanno vedere alcune delle cose più importanti. L'autenticazione, quindi ci aiutano a gestire direttamente tutta la parte di autenticazione. È già fatta, quindi noi non dobbiamo scriverla, dobbiamo solo implementarla. Abbiamo le varie autorizzazioni con le policy, quindi ad esempio questa pagina. Poniamo il caso che io sia registrato. Se sono un banal utente vedo queste cose. Se sono un amministratore posso modificarla, posso eliminarla, posso caricare roba e quant'altro. Quindi lo facciamo tramite le policy. Abbiamo Eloquent ORM che ci aiuta a lavorare col database. Quindi anziché utilizzare le query noi a mano, che siano Mongo o che sia sostanzialmente MSQL, quello che volete, abbiamo un ORM che ci permette semplicemente di dire guarda, sono un utente, in Voices mi crei una nuova fattura. Ok? Oppure me la aggiorni. Vedete che qua di SQL non ce n'è. È semplicemente sintassi PHP, ma molto legata a come parleremmo. Ad esempio qua, per ogni fattura, each ogni fattura, me la paghi. Cose del genere. Va bene? Qua di SQL noi non ne vediamo. Ed è la cosa bella di Eloquent. Dopoiché abbiamo le migration. Non hanno citato Cedar e Factories, che vedremo. Però le migration sono comode perché ci permettono, poi ne parleremo più avanti, di andare a modificare, creare database, tabelle eccetera, velocemente, senza andare noi su MySQL Workbench e lavorare a mano. Molto comodo se dobbiamo rifare la roba da zero, continuare a buttare giù, rifare. Dobbiamo utilizzarlo su più server, su più computer, lavoriamo con più persone, eccetera. Validazione, quindi parliamo di form, notifiche e email, file storage, quindi per caricare immagini ad esempio. Abbiamo le queue per fare lavori in background. Abbiamo la possibilità di andare a schedulare, quindi a programmare dei task da fare. Parliamo di testing e poi parliamo di WebSocket, quindi la cosa che può venire in mente più facilmente è ad esempio la chat. Le chat utilizzano WebSocket, quindi comunicazione in tempo reale. Queste sono le potenzialità di Laravel, cioè ciò che ci dà Laravel. Quindi possiamo fare tutta roba web ed è, essendo in giro ormai da 13 anni, è già strutturato, molte delle cose sono già scritte per toglierci a noi il peso di scriverle ogni volta da zero. Non serve, lo fanno direttamente loro. Poi qua non è citato che utilizza Blade, ad esempio come template engine. Potreste non sapere cos'è un template engine. Non preoccupatevi, sta roba qua la vedremo praticamente tutta. Quello su cui mi voglio soffermare prima di parlare di come sarà strutturato il corso è perché imparare Laravel? Beh, Laravel al di là che è richiestissimo per un motivo sul mio canale, quindi me lo richiedete veramente da tanto tempo. Ma perché è richiesto come corso? Perché effettivamente è una delle tecnologie più richieste in ambito lavorativo, almeno a livello italiano. Non so come funziona in Polonia, in Germania, in Congo, negli Stati Uniti. Non guardo i loro annunci di lavoro tutti i giorni, eccetera. So come funziona in Italia. In Italia c'è veramente tanta richiesta, soprattutto lato PHP è richiestissimo. O c'è Java con Spring Boot generalmente, oppure c'è PHP con Laravel. Potrebbe esserci CodeIgniter, potrebbe esserci Symfony e altri framework PHP. Ma Laravel in realtà, per quello che ho visto, ne parlo sempre nei miei video annuali sul mondo del lavoro italiano, è sempre uno tra i più richiesti. Quindi Laravel andrebbe imparato, innanzitutto per la mentalità che utilizza MWC, che è Model View Content, che è utilizzata, diciamo, anche da Spring Boot e da altri framework. Quindi una volta che hai imparato a ragionare così, sì, cambia la sintassi, che questo è sintassi PHP, rispetto alla sintassi Java, però è un modo di pensare che in realtà è usato trasversalmente su altre tecnologie e altri framework. Quindi una volta che hai imparato a lavorare con Laravel, la mentalità vi resta su come fare un backend, un'applicazione web, eccetera, e la potete utilizzare altrove, ok? Quindi si tratta poi di cambiare linguaggio, potrebbe essere JavaScript su Node, potrebbe essere Java su Spring Boot, eccetera, eccetera. Però, ripeto, è una mentalità che resta e soprattutto Laravel, almeno in Italia, è una skill molto richiesta. Quindi riutilizzabilità, poniamo il caso che nella vostra zona non ci siano richieste per Laravel, ma magari Spring Boot, però una volta che sapete lavorare, sapete creare degli API, dei REST API, sapete creare un'applicazione web, sapete creare un blog, un CMS, un e-commerce, prendete la stessa cosa che avete imparato qua e la applicate in un altro linguaggio di programmazione, le cui basi non differiscono più di tanto, ok? Quindi perché impararlo per questo motivo? Una questione di mentalità soprattutto, di mentalità che potete applicare altrove, e poi questione lavorativa. Quindi se volete lavorare in questo ambito, Laravel è sicuramente, almeno in Italia, qualcosa che funziona. Quindi come sarà strutturato il corso? Molto semplicemente avremo una serie di episodi, dovrebbe essere tra i 25 e i 30, potrebbero aumentare in base ad eventuali modifiche, ma sostanzialmente parleremo di chiaramente come installare PHP, ma SQL, creare un progetto Laravel, che cosa c'è dentro un progetto Laravel, perché dobbiamo capirlo, parleremo delle route, che sono le basi assolute di Laravel, e poi dovremmo parlare del controller, di Blade, appunto come collegare database, abbiamo visto qua sotto, dobbiamo parlare dell'autenticazione, dobbiamo parlare dei form, dobbiamo parlare delle migration e dei seeder, dobbiamo vedere come inserire dati, come caricare immagini, parlare dei middleware e tanto altro, ok? Quindi sostanzialmente tutti i costrutti fondamentali, e anche un pochino di più, lo andremo a vedere. Poi cosa farò? Importantissimo. Sicuramente sul sito, forse anche qualcosa qua su YouTube, andrò a preparare dei corsi, innanzitutto più avanti un corso completo di Laravel, dove veramente spendiamo 20, 30, anche 40 ore a imparare Laravel in ogni singola sua, in ogni singolo suo dettaglio, in ogni singola forma, e soprattutto andrò a fare dei mini corsi, come potreste aver già visto questo qua, corso node API, voglio farne uno simile, Laravel API, quindi creare API in Laravel, oppure creare direttamente un e-commerce in Laravel, andare a creare un CMS, oppure un'applicazione con React e Laravel, Svelte e Laravel, Angular e Laravel, ok? Quindi saranno tutte applicazioni staccate, che voi vedete già così come sono, impacchettate, e imparate a fare quella cosa specifica. Perché non lo facciamo qua dentro? Perché potremmo starci 75 anni a fare ogni singola forma, io magari faccio Angular, e molti di voi, sì, ma io volevo React, sì, però io non posso farle tutte, queste cose qua. Quindi il corso andrà a coprire, come sempre, quelli che sono i fondamenti per farvi capire come si lavora in Laravel, poi pian piano andrò a fare di più. Mentre io vado a fare di più, voi avete la base per cominciare voi a fare i vostri progetti, leggere la documentazione, esplorare, praticare, eccetera eccetera, ok? Quindi direi che per introduzione a Laravel è tutto, noi cominciamo, perché nel prossimo video andiamo ad installare tutto quanto. Quindi noi ci vediamo tra poco.